Ho trovato, veramente mi sono imbattuto in una sponsorizzata sui social, un'applicazione per iOS ma funziona anche sul web che si chiama Piclumen, è un'applicazione gratuita, completamente gratuita sia sul web che per iPhone che genera immagini con le AI, non con le AI, con le AI ma con i AI, con l'intelligenza artificiale quindi è un'applicazione gratuita, tenete a mente questa parola gratuita ma non si sa per quanto quindi scaricatela, Piclumen, utilizzatela, provatela e poi ovviamente ci possiamo anche confrontare anche in una live, mi piacerebbe tanto e questa applicazione genera immagini con l'intelligenza artificiale, con un buon livello, con un buon imprompt e ha delle funzioni veramente interessanti tra cui una che diremo subito ovviamente nel corso del tutorial andiamo a vederla subito ma prima, chi sono io? Sono Babbo Natale? No, sono Gennaro quindi in questo canale si parla di accessori e applicazioni, vedete anche rivolti alla creazione ovviamente però utilizzando soprattutto gli smartphone, quindi ragazzi andiamo a vedere Piclumen cosa può fare Allora andiamo sull'Apple Store, eccola qua ragazzi l'applicazione fantastica e gratuita non ci posso ancora credere chissà per quanto e quindi scaricatela 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 e provatela e confrontiamoci se ovviamente io sicuramente se avrò qualche mancanza quindi aiutatemi vedete già dal preview cosa fa comunque la scopriremo nel tutorial e in fondo in fondo in fondo in fondo se vediamo sempre dove ci sono ovviamente tutte le informazioni su che l'ha fatta la data eccetera eccetera non c'è nessun onero da pagare quindi la possiamo scaricare e la possiamo provare io l'ho già provata e l'ho scaricata e ho fatto qualche prova ma adesso andremo a vedere nel dettaglio tutto e la proveremo insieme non ci resta che andare a lanciare l'applicazione e ovviamente ci chiederà qualche permesso adesso non mi ricordo però vedete già guardate un po già dalle foto di immagini ecco il permesso ce l'abbiamo consenti già dalle immagini che appaiono vi rendete conto di cosa può fare ecco la cosa da fare la prima cosa da fare se volete ovviamente non so se si possono creare immagini non logandosi ma io mi loggo qua facciamo accedi perché faccio accedi perché visto che questa applicazione funziona anche sul web ovviamente voi potete trovare potrete troverete sicuramente tutte le vostre immagini anche sul web ok sulla parte web e poi qua quindi poi vedremo dove sono allora io vi faccio vedere una panoramica un attimino dell'applicazione quindi qua abbiamo tutte le immagini che sono state generate ovviamente abbiamo le tre schedine con i popolari che è le ultime le ultime forse che ci sia anche le mie mezzo comunque non so per essere spara subito oppure le devo sparare io questo non lo so e qui possiamo avere anche una sorta di cerca possiamo anche cercare un'immagine che ci può interessare ok cerchiamo un cagnoletto allora ecco qua vedete vengono fuori ok tutti i cagnolini va bene del caso adesso un attimino facciamo annulla ok e vediamo qua sotto cosa c'è qua sotto ci sono ovviamente questo la prima scheda la prima icona equivale a questo la seconda la seconda icona equivale proprio la generazione dell'immagine stessa poi vedremo nel dettaglio e la terza ci sono tutte le immagini che io ho già generato quindi ovviamente faremo una prova e ne genereremo altre e poi ovviamente l'ultimo riguarda il nostro account con tutte le informazioni del caso i termini d'uso eccetera 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 quindi detto questo vi faccio vedere solo una cosa cioè solo una cosa andiamo a vedere adesso nel dettaglio l'immagine diciamo le sue caratteristiche questa qua è stata generata da un creator ok come posso essere io come potete essere voi cosa possiamo fare di questa immagine innanzitutto possiamo scaricarla ok diciamo possiamo condividerla scaricarla oppure segnalare qua dentro c'è il segnala se è una cosa che non è lecita ma ovviamente possiamo andarci anche cliccandoci sopra e con pizzo zoom possiamo mettere in grandi resi che non è non è male come ovviamente come risoluzione ma questo lo possiamo si può migliorare sotto abbiamo già link in molto interessante la parte remix cosa vuol dire che praticamente possiamo rimixare questa immagine possiamo generarne un'altra ma aspettate lì qua c'è la possibilità di elevare lo sfondo ma è un po lento come diciamo come come strumento ok quindi è meglio affidarsi a altre applicazioni tipo foto room e qui invece abbiamo la possibilità di andare a zoomare l'immagine ma questa non ci permette di andare a zoomare poi questa funzione lascia un po il tempo che trova qui abbiamo le prime informazioni che riguardano questi queste immagini ok innanzitutto qua il motore con cui è stata generata quindi possiamo vedere ok quale motori a 5 i motori quindi molto interessante questo è il prompt che può essere copiato perfetto e questo è il prompt negativo c'è tutto quello che non deve apparire in questa immagine possiamo copiarci anche questo possiamo copiarci tutto praticamente ecco il primo diciamo la prima prima caratteristica importante è proprio questo cfc fg scale che praticamente è l'influenza ok che deve avere il motore su questa realizzazione di questa immagine molto molto carina qui abbiamo invece anche gli steps che sono un numero anche qua più alto è il numero più la immagine è definita meglio e mentre il tempo aumenta ma non solo anche scegliendo ovviamente un motore diverso tra per cui per il quale per chi comunque c'è il flux dentro che un moto uno dei motori diciamo l'intelligenza artificiale che genera immagini più realistiche quindi rallenta ovviamente il tutto e abbiamo qua il sito che è molto interessante perché questo numerino qua racchiude ovviamente un segreto se voi è un numero generato da voi quindi non è che viene calcolato da chi sa chi oppure viene dato random ma viene sempre dato il meno uno quindi non abbiamo cioè non ci serve a niente se voi generate un numero random e lo tenete per tutte le immagini che farete utilizzando il stesso prompt e modificando qualche parola l'immagine potrebbe essere uguale con un'aggiunta ecco avete capito quindi adesso andiamo avanti poi ve lo farò vedere la risoluzione ovviamente qua quale risoluzione utilizzato qui abbiamo il 1700 1920 questo è un 169 quindi utilizzato questo e qua sotto invece c'è la data e poi basta ogni tanto c'è un altro parametro sotto ma a noi pochi importa ok faccio vedere solo questa parte qui remix vedete mi catapulta all'interno della generazione dell'immagine con il prompt stesso che posso utilizzare ecco la cosa ovviamente funziona meglio se scritto in inglese quindi adesso abbiamo visto ovviamente tutta la schermata cioè la schermata abbiamo visto la panoramica dell'applicazione adesso andiamo a vedere come si crea un'immagine prima di andare avanti ok adesso dobbiamo creare un'immagine nostra se andiamo qua sotto troviamo tutte le immagini che abbiamo ovviamente noi generato e questo perché ci siamo logati ok quindi senza login forse non le troviamo più quindi adesso andiamo indietro anche qua possiamo cercare penso che possiamo cercare nelle nostre immagini vabbè comunque la ricerca non è che ci interessa adesso andiamo di nuovo nei prompt e anche qua abbiamo tutte le nostre immagini vedete abbiamo qua tutte le nostre immagini che abbiamo generato quindi e possiamo ovviamente andare a remixare anche questo concediamo questo prompt e andiamo a scriverci una cosa molto semplice perché semplice perché voglio far vedere la differenza ovviamente da cosa da diciamo dall'immagine adesso col seed si può ovviamente migliorare la cosa ecco l'unica cosa che bisogna il prompt scriverlo sempre uguale e poi il seed deve essere sempre uguale per questo il prompt lo copio ok per poi tradurlo in inglese e ovviamente poi ripartendo dall'italiano ovviamente per aggiungere qualcosa quindi robot un robot in un bosco che coglie fiori ecco adesso per tradurre questo prompt potremmo utilizzare qua sotto però un po' lì un po' lentino mentre questo migliora il nostro prompt poi lo faremo ok quando quando se lo vogliamo migliorare adesso io faccio mentre lo vado a selezionare tutto vado nella traduzione di ios che è molto molto semplice cosa faccio aspettate 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 prima copio questo me lo copio perché ovviamente voglio utilizzare sempre lo stesso vado in traduci vedete me lo traduce faccio così ok e l'ha messo in inglese vediamo un po' robot del forest adesso qui scegliamo il motore qui ci sono tutti i motori che possiamo utilizzare ok vedete qui era si è smesso sul motore che è stato utilizzato ovviamente per generare queste immagini noi rimaniamo qua perché è un robot quindi va bene così ok poi provatevi tutte le altre ecco qua c'è anche ovviamente se cliccate sopra o andando nel sito e vi fa ovviamente avete altre informazioni ok clicchiamo su questo va bene qui quante immagini vogliamo generare da 1 a 4 a 4 qua quale vogliamo come dimensione formato mettiamo questo ok mettiamo questo e qua dentro ci sono le famose i famosi parametri che abbiamo visto prima ok la parte negativa che lascerei così e c'è la parte negativa l'audio materiale di lama lascerei così e qui invece ci sono i parametri l'influenza che deve avere lei sull'immagine e questa ovviamente è il parametro di diciamo di come quanta qualità deve avere ovviamente più alta è più lento è ma molto la qualità aumenta molto e qui è il famoso seed e noi ci andiamo a mettere che dobbiamo ricordare 1 2 3 4 5 6 7 8 memorizziamo fino a 8 poi il numero può essere più complesso però adesso io lascio così clicchiamo su fatto sotto ok tiriamo giù e qua sotto possiamo andare a generare quindi adesso lui comincia a generare le immagini e poi andremo a modificarne una per vedere se veramente poi alla fine quel seed aggiunge una cosa all'immagine ho già provato e diciamo che è abbastanza convincente certo bisogna fare tante prove e ovviamente non tutti i prompt sono come dire donne a questa funzione qua andiamo a vedere quando ha generato cosa ha combinato e poi continuiamo a remixare questa immagine ecco le quale immagini che ha generato ok qua non sta cogliendo proprio niente però qui si guardate un po che bella immagini che ha generato ok ecco qui anche qui abbiamo abbiamo tutte le informazioni del caso che abbiamo visto prima il nostro proprio di molto semplice quindi niente di che ecco qua c'è lo zoom io questo sinceramente ragazzi io non l'ho capito ok qui è un fattore questo qua è un fattore di incassinamento di immagini a quanto dice qua che può anche influire negativamente sull'immagine e qua c'è lo zoom io non so io proviamo a fare a fare così ok e vediamo cosa esce fuori perché la differenza io non l'avevo vista può darsi che adesso la noteremo oppure voi la noterete io no perché avevo già fatto due prove ma non si capiva bene come era in effetti zoomata la foto andiamo a vedere adesso lo zoom io non l'ho messo al massimo dovrebbe perché cento per cento dovrebbe essere già lui non lo so 150 la galina canta quindi è lentissimo diventato molto lento ecco io forse lo zoom non 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 è quello che non so io non vedo niente di zoomato comunque torniamo indietro questo parametro non ci interessa non ci interessa neanche questo scontorno perché è lentissimo invece andiamo a fare un remix di questa immagine ok facciamo così rimettiamoci il mio prompt vedete che ho messo qua coglie fiori con fiori e un lupo ok adesso anche questo ce lo facciamo tradurre ovviamente dalle ai ok traduci dalle ai si ormai ci sta scippando la destra ok andiamo qua usiamo lo stesso motore andiamo in avanzate mettiamo il sid a 1 2 3 4 5 6 7 8 che dovrebbe garantire più o meno l'immagine la stessa fatto giù e andiamo a generare ne solo una e andiamo a fare la generazione e vediamo se veramente l'immagine cambia ok cambia o è sempre deve essere la stessa è un poco da conviene allora l'ha fatto diventare un lupo l'ha fatto diventare un lupo cioè il robot diventato un lupo però vedete che la foresta è sempre la stessa più o meno è sempre la stessa più o meno però non tutte le diciamo non tutti i prompt sono capite sono idonei adesso andiamo a fare un'altra più semplice fa esagio invernale ok facciamo così traduciamo anche questo lo possiamo anche scrivere a memoria direi facciamo così andiamo qua ma si dice già ok ha tenuto sit ok passaggio invernale facciamo una sola andiamo a vedere cosa fa e poi ci aggiungiamo magari non so qualcosa dei uccelli che svolazzano tipo perché dovrebbe aggiungere aggiungere delle cose non non fare non trasformarlo però inglese ovviamente non è forse non è stato come dire non ho messo giusto paesaggio invernale che ci ha messo una persona ok va bene ci ha messo una persona adesso facciamo una sigla di indietro niente ok faccio così faccio così vediamo invernale viro case alberi vediamo mettendo una virgola vediamo che combina poi ragazzi provate provate e aiutate gennaro a fare questo andiamo qua dobbiamo mettere si vede che la toglie sempre sit 1 2 3 4 5 6 7 8 ok fatto e poi cambiamo un attimo motore faccio vedere un altro motore quello flux e poi vediamo poi diciamo la conclusione poi provate la scaricata era perché sennò tra poco diventa pagamento me lo sento me lo sento tra un anno sarà ancora gratis speriamo vediamo allora niente cambia perché il prompt è sbagliato secondo me però vedete che io qua ho fatto una prova vedete qui ok ho messo in italiano se funziona mettiamo questo vedete che io ho messo qua paesaggio autunnale nel bosco bello nel bosco sole e neve però il seed non me lo ricordo forse a questo è il flux vedete questo è il flux 1 2 3 4 5 6 7 8 la cosa me ne accorgo dai parametri che sono minori c'è solo questo solo il seed e basta non si possono mettere altri parametri e va provato va provato questa va provata però sono sicuro che funziona perché ho fatto delle prove e ha funzionato adesso perché non lo trovo più ma è vero andiamo a vedere adesso cosa fa rispetto a questa che era questa qua si era questa qui mi sembra si dov'era c'è il robot ecco niente aspettate è quasi uguale questa ed era questa allora vediamo un po è un po è un po passaggio era questa è quasi uguale si dobbiamo bisogna perfezionare il prompt in inglese ovviamente bisogna scrivere bene in inglese però diciamo che ragazzi è ok avete visto il flux che praticamente fa delle cose veramente belle ecco possiamo adesso se vogliamo trasformare anche una di queste con un altro motore quindi se io vado a fare la stessa cosa che vado a fare sempre lo stesso stesso prompt però vado a scacare il secondo secondo sì che quello che disegna vado a far così lasciamo prendere il seed quello che voglio fare proprio una cosa diversa però deve essere ovviamente disegnata questa volta non è praticamente una non è vera come una foto realistica ecco doveva essere un disegno eccoli guardate un po è veramente bella va ovviamente un po provata va raffinato ovviamente il prompt ecco vediamo un attimo vediamo un attimo il prompt che è abbellito se io clicco qua sotto vedete qua sotto ok lui abbellisce il prompt cioè lo rende più ricco ovviamente molto più ricco ecco lì vedete andiamo a far generare ecco abbiamo anche formato mettiamo la 16 noni vediamo un po ecco ovviamente vedete vedete 16 noni arricchisce molto di più andiamo a vedere arricchimento cosa fa un momento e ragazzi bisogna provare bisogna provare finché è gratis proviamo ecco lì ok arricchito un po beh sì anecchito quindi avete visto che meraviglia guarda quanti ne ho fatte già io a parte il robot ho fatto la foresta che era sicuro di aver messo fatto il treni ho fatto i treni che bella eccola la prova vedete che ho fatto questa ok poi ho fatto quell'altra con il lupo vedete che con il lupo con vedete con il l'alce cos'è quindi vedete che presente ho fatto questo ed era venuto bene come ho fatto a far questo fatto lui il prompt ecco perché hanno fatto lui quindi era venuto molto meglio ok io ho aggiunto una frase e poi lui lo ha lo ha l'elaborato comunque ragazzi provate provate tanto è gratuita e finché gratuita bisogna provarla ragazzi cosa mi dite io sono rimasto veramente così sbalordito nel senso perché gratis è una e poi perché lavora bene cioè è veramente una bella applicazione e poi la bella cosa che possiamo ovviamente andare anche su web e lavorare lì abbiamo abbiamo le due due tipi di interfacce uno su ios che mentre l'applicazione è sempre più maneggevole non date sul cellulare quello con l'iphone ovviamente è tutta portata di mano e net sul web che dovete andare a schermo intero oppure non credo che poi sul browser di ios si veda un granché ok quindi è molto bella come fatta sono soddisfatto la proverò ancora e ovviamente aiutatemi ok nei commenti provatela datemi dei prompt da provare facciamo un po una una cosa insieme ok collaboriamo su questa cosa perché è bella questa applicazione è gratuita e finché gratuita bisogna usarla perché sapete poi qua ci fanno usare tutti questi strumenti e poi alla fine ci chiedono un abbonamento bene ragazzi se vi è piaciuta questa applicazione ma penso di sì li vedo già condividetela con i vostri amici che magari fate piacere ovviamente a chi vuole usare questi strumenti che li ho fatto conoscere e poi in ultimo se non l'avete ancora fatto è il momento di iscriversi al canale alla fine e se volete potete anche azionare la campanella per ricevere le notifiche dei video che posterò in futuro e con questo è tutto ci vediamo alla prossima ciao